Ciao a tutti ragazzi siamo in un video sempre con la bellissima Hermione Ok lui fa video belli, bellissimi Quindi iscrivete il suo canale Se ne sono 58 iscritti se volete farlo salire Sponsorizzo un po' proprio lui E niente Troll Mi ha detto Mi ha scritto nei commenti che voleva essere sponsizzato Io ho sponsato Dovete far pure così voi se volete essere sponsizzati E ciao